Musica Mancano due giorni al primo marzo e nel palazzo dello sport dell'EU, dove neanche una settimana fa abbiamo assistito a gravissimi incidenti tra giovani di diverse tendenze, si stanno svolgendo le prove del Genfest di Roma. Musica 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 Un saluto a tutti i telespettatori che sono collegati con noi su Rai1 e su tutte le altre tv internazionali da questo momento via satellite. Musica 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 Radio Serva ha sparso la notizia che la pace si può fare. Giovani, non accontentatevi delle briciole. Avete una vita sola. Puntate in alto. Non accontentatevi delle piccole gioie. Cercate quelle grandi. Cercate la pienezza della gioia. Ciao a tutti. Ben arrivati. Il decimo Jamfest della storia sta per cominciare. Proponiamo un patto mondiale di fraternità. Lanciamo il United World Project. Vogliamo formare un network per il mondo unito, basato sulla regola d'oro. Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Per farlo promuoviamo una campagna di raccolta firme mondiale. Sosteniamo la costituzione di un osservatorio permanente per il mondo unito. Da oltre 15 anni, poi, realizziamo la settimana mondo unito. Dei giorni nei quali si promuovono iniziative di fraternità a tutti i livelli per incidere sull'opinione pubblica dei nostri paesi. Ne chiediamo il riconoscimento alle Nazioni Unite. Ed è questa generazione che ora mi prende il cuore e alla quale vorrei dare la mano per aiutare ad alzare gli occhi verso l'alto. E lo dico a tutti voi. Sì, guardate in alto. Guardate lontano. È lì che troverete l'appiglio sicuro. Guardate lontano.